Tesoro, la cena è pronta. Mi hai sentito? Mi chiamo Bart. Lavoro in un hotel. Andrea Rivera. Devo fare il check-in. Allora, come ti chiami? Mi chiamo Bart. Beh, è un piacere conoscerti Bart. Sì, lo è. Il mio turno è dalle 20 alle 4 del mattino. Eh, sì. Stanza 124, più carina. Dalle porte francesi ha accesso alla piscina. Faccia attenzione. Cosa ci vuoi qui? Lasciami andare! Lasciami andare! Sta zitta! Prendilo qui! Bart, penso che questa persona sia morta. Abbiamo una donna morta. Sai che hai del sangue sulle mani, vero? Sì, io sono affascinato dal sangue, quindi l'ho toccato. Sei affascinato dal sangue? Mi dispiace, è sua moglie. Che diavolo ci faceva? In un hotel nel cuore della notte. Che stai facendo? Quel ragazzo è stato lui. È un ragazzo molto fragile. Mi stai nascondendo qualcosa, ed è questo invece che credo. Certo, perché credere è una cosa altamente rischiosa. La solitudine ci fa fare cose strane. Quanto è brutto sentirsi soli? Succede che ti senti frustrato, che ti senti esplodere. Si tenga la larga dal mio bambino. Non ce la faccio. Non basta farlo! Allora direi che ho tirato fuori la pistola dalla tasca e le ho sparato. Allora lo arresti. Che cosa sta aspettando? Basta, basta! Hai registrato tutto! L'ho fatto vedere alla polizia.